Duro colpo della Guardia di Finanza e della Didia di Napoli all'ex boss detenuto delle case Celesti Gennaro Marino, 55 anni, militari del nucleo di polizia economico-finanziare, gli hanno sequestrato beni per 19 milioni di euro, intestati a 5 prestanome. Il decreto di sequestro è stato emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Napoli su richiesta del sostituto procuratore Vincenza Marra. I sigilli delle fiamme gialle hanno riguardato in particolare 18 unità immobiliari tra Napoli, Melito di Napoli, Vitu Lazio e Corigliano Calabro e i compendi aziendali di due imprese per la distribuzione di carburanti e la compravendita immobiliare con sede a Napoli ad Arzano. Una discarica completamente abusiva, rifiuti dati alle fiamme e lavoratori in nero è la scoperta che hanno fatto i carabinieri della sezione operativa e radiomobile della compagnia di Castellammare di Stabia, insieme al nucleo carabinieri spettorato del lavoro di Napoli e ai carabinieri forestali di Castellammare, che hanno effettuato controlli in un'azienda che si occupa della gestione dei rifiuti nella periferia stabiese. Nel capannone di 200 metri quadrati soppalcato erano presenti il proprietario dell'azienda e due operai. I tre stavano tagliando con un flex alcuni motori degli alternatori e varie parti meccaniche. Con un cannello a gas, gli operai stavano bruciando alcune parti in plastica, rendendo l'aria irrespirabile. Carmelo Miano, l'hacker siciliano di 24 anni, arrestato meno di un mese fa con l'accusa di aver violato i server del Ministero della Giustizia, era in possesso tra Firenze, Perugia e Torino di ben 46 password di altrettanti magistrati inquirenti, tra cui anche quelle dei procuratori di Perugia e Firenze Raffaele Cantone e Filippo Spiezia. La circostanza emerge dai approfondimenti investigativi eseguiti dalla Procura di Napoli sulle informazioni acquisite e analizzate dagli inquirenti nell'ambito dell'indagine. Nella conferenza stampa che ha reso noto il suo arresto, il procuratore di Napoli Nicola Gratteri lo aveva definito un vero e proprio mago, sicuramente in possesso di doti informatiche spiccatissime, ma a peccato di ingenuità, quando si è messo a navigare su un sito di contenuti pornografici. È stato proprio quest'ultimo a tradirlo, nel momento in cui il suo indirizzo IP è risultato visibile ai tecnici della Polizia di Stato che erano sulle sue tracce. Il Ministro della Giustizia Carlo Nordio torna a Napoli per prendere parte al convegno dedicato al tema della violenza di genere organizzato a Castelcapuano. A distanza di qualche mese, l'ultima volta, aveva partecipato alla cerimonia di insediamento della Presidente della Corte di Appello, Maria Rosaria Covelli. È stata l'occasione stavolta di presentare l'opuscolo intitolato La violenza mai, voluto dal Ministro per conoscere e prevenire la violenza di genere. Valori come l'educazione e il rispetto non si imparano a scuola o leggendo i codici. Sentiamo le parole di Nordio. La magistratura opera bene, il codice rosso funziona. Quello che manca è l'educazione, al rispetto dei diritti dei soggetti cosiddetti deboli. Al via la terza edizione di Capability Festival, l'evento sulla disabilità voluto per accendere i riflettori sulla disabilità e parlarne con un linguaggio contemporaneo fuori dagli stereotipi. Il festival è un contenitore di iniziative che si terranno fino a domenica 20 ottobre al Maschio Angioino e in altri luoghi della città per cambiare la prospettiva della disabilità. Guardando alle specifiche capacità dei singoli, considerandole non un problema ma una risorsa per l'intera comunità. Una festa in perfetto stile squalor fino al 24 ottobre accompagna la mostra Fango, gli squalor a tutto tondo, di Salvatore Scuotto, alias Morales, Nicoletta Itto, al TIN Teatro Instabile Napoli, organizzata dall'Associazione Paleo Contemporanea in collaborazione con l'Accademia di Belle Arti di Napoli e con il TIN Teatro Instabile Napoli. L'evento si avvale del patrocinio del Comune di Napoli. Obiettivo della mostra è dimostrare quanto il variegato patrimonio espressivo degli squalor sia ancora fecondo e quanto la loro importanza nella storia del costume, del linguaggio, della satira politica e dell'arte può, senza nessuna esitazione, consegnarli ai posteri con l'attributo di veri maestri. Almeno due settimane di stop per lo Botka. L'esito della risonanza parla di una distrazione muscolare, dunque il regista salta a Empoli lecce e anche la trasferta con il Milan e Conte spera di averlo pronto per la gara con l'Atalanta. Ma è difficile che possa esserci, quindi probabile che rientri il 10 novembre per la gara contro l'Inter. Il Napoli è furioso perché la Slovakia, ha tenuto in campo il giocatore anche con l'Azerbaijan per tutto il match fino al momento dell'infortunio muscolare, nonostante i 90 minuti già giocati con la Svezia senza risparmiargli neppure qualche istante, calcolando che dall'inizio dell'anno non ha mai saltato una partita. Si apre il sipario sulla Serie A di calcio a 5 con il Napoli Futsal, grande protagonista, che si appresta ad affrontare una stagione da leader dopo la scorsa straordinaria con la vittoria della Coppa Italia e il secondo posto in classifica nella finale scudetto contro Catania. Si scende sul parquet di Aversa, al Palai Acazzi, venerdì 18 ottobre per la prima giornata contro Cosenza. La squadra di Mister Colini è pronta a combattere e conquistare l'ambito sogno, sfumato solo di un soffio lo scorso giugno. Roster competitivo con Bolo, Borruto e Salas, reduci dal Mondiale in Uzbekistan. Il resto del gruppo, più che mai unito per raggiungere grandi obiettivi, capitanato da Nando Perugino. Un'occasione quella della presentazione della squadra dove sono state mostrate le nuove maglie ispirate alla città di Napoli.